Sospiro di sollievo per l'indirizzo linguistico del liceo scientifico Seguenza che il prossimo anno potrà svolgere le lezioni all'interno del proprio istituto in via Sant'Agostino. Una notizia che arriva proprio dai rappresentanti delle componenti del Seguenza che sono stati ricevuti dall'assessore regionale all'istruzione e alla formazione professionale Roberto Lagalla. L'esponente dell'Aggiunta Musumece ha infatti dichiarato a seguito dell'incontro che non darà seguito al provvedimento del trasferimento dell'indirizzo linguistico del Seguenza al liceo classico Maurolico. Lo scippo che la preside Leonardo del liceo aveva temuto e con lei 350 studenti, 19 docenti e 9 addetti del personaleato del linguistico non ci sarà. Ancora a rischio invece altri due istituti scolastici, il comprensivo Pietro Donato di Paradiso e la Pascoli Crispi. La scuola dell'infanzia Iuvara con 4 sezioni e 85 studenti verrebbe infatti sottratta alla Pascoli Crispi e aggregata alla Battisti Foscolo. La scuola primaria dell'infanzia Beateustocchio invece verrebbe scippata all'istituto comprensivo Scuola di Paradiso composta da circa 1200 studenti e accorpata alla Elio Vittorini.